Poi, non so, scusate, non ho una disciplina, non ce la vedo la prima. Questa partita verrà interrotta da alcuni spazi pubblicitari perché come saprete le tv commerciali sono al beneficio del 1.500 miliardi del canale e quindi solo grazie ai prodotti pubblicitari che ci è permesso Ma poi voglio una bottigluccia delle cose e faccio un'attesa E ora mi serve una coppina dell'ordine da mettere la nonna a bottigluccia all'ordine E il dedo è che gli recipienti e gli mettono la pupù So che in grado Ora sguota per vita Si tratta del numero 4, il numero 2, il numero 2, il calcio di funzione, ordinato da Massimo Arbuie Carmen, ora giro a giro, guarda E' un'attesa, un'attesa della pasta Si ricordate che si parla a 1 del, nel 2015 potrebbe seguire la partita tra Sandoria e Branderiana E' un'attesa di coppa delle coppie Ad esempio c'è un lancio per Marte Noi In anticipo su questo centro artista dell'edit Se parla, sarebbe un pochino con i sededi Io ho il tuo tema di figli d'arte Il mio figlio è un figlio d'arte su quale avrete giocato. Nella mano, un lancio di ogreno, un'anime, breme, la carezza e il dolore, avvenisce di palergia. Vediamo un lancio. Vediamo un'anime, breme, la carezza e il dolore. Caccia! Caccia! Bisco! Vediamo, ragazzi, a posta di mettere i pigiamini e poi di mettere la gara. Maledonne! 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 dove vai? vieni qua